Oh ma guardati, sei il mio scudiero piccolino, Arara, sei così adorabile, sembri quasi un bambino. Non essere imbrazzato, so che gli scudieri sono tutti giovani e ti hanno mandato qui per servirmi, giusto? Oh, e per apprendere come diventare un grande cavaliere, certo. Arara, così giovane e così impaziente. Non posso insegnarti tutto immediatamente, sai? È passato un po' di tempo dall'ultimo scudiero. Prima di farti diventare un degno cavaliere, voglio che tu, beh, voglio goderti per un po'. Oh, sei diventato rosso come un bocciolo. Che cosa passa per quella tua mente da piccolo pervertito? Arara, intendevo dire che finalmente potrò godermi di qualcuno che farà le cose meno divertenti dell'essere un cavaliere. Per esempio, lucidare la mia armatura, dare cibo al mio cavallo, pulirlo, occuparsi delle armi, lucidarle, affilarle e ovviamente occuparsi della mia lancia durante i tornei. Oh, ti insegnerò, certo. Ti insegnerò a combattere. E infatti, farei meglio a imparare il più possibile e anche il più velocemente possibile. Arara? Non l'ho forse menzionato? Non rimarremo qui per molto tempo, mio giovane scudiero. A dirla tutta, ce ne andremo domani. Dove, dici? Arara? Ce ne andiamo per la Terra Santa? Faremo parte della gloriosa crociata. E noi andremo alla conquista della gloriosa terra della croce. La conquisteremo per il Papa e per noi stessi, ovviamente. Tutti quanti ci ricorderanno per il coraggio. Per il coraggio di noi cavalieri. Per aver superato le intempere del deserto. Per essere riusciti a sconfiggere le lame affilate dei saraceni. E per aver sorpassato le mure di Gerusalemme. In modo tale da restaurarne la cristianità. Oh, sei diventato pallido all'improvviso. Hai paura per caso? Beh, sì, non è proprio il posto più sicuro per un giovane scudiero. Ma è proprio questo il punto del tuo allenamento? Quando finalmente sarai un cavaliere? Non starai al sicuro in un castello o in un giardino pacifico. Piaccerai ai confini della terra per poter dare onora al tuo titolo. Proprio come faccio io. Pensi che possa essere anche solo minimamente un posto sicuro? Certo che no. Sarà pericoloso e sarà pieno di gente che è disposta a tutto pur di vincere. E tu, ovviamente tu, non desisterai perciò. Chiaro? Sorpasserai tutti questi pericoli. Affronterai le tue paure. E otterrai gloria, onore dai tuoi compagni. Proteggerai i deboli. E, beh, questa è la vera vita di un cavaliere. Infatti, io ti proteggerò. Arara. Lo so che al momento non puoi combattere per te stesso. Scherzi? Pensi davvero che ti lascerei combattere in prima linea? Che sciocco. I saraceni ti spolperebbero vivo. Le ho già affrontati e fidati. Non vanno prese alla leggera. Apprenderai da me. Ma allo stesso tempo dovrei stare dietro me finché non sarei pronto. Arara. Mmm, vuoi davvero cominciare a combattere subito, eh? Mi toccherà mostrarti un paio di cose. Forza. Prendi quella spada di legno e prova a colpirmi. So che sei stato allenato per combattere un pochettino. Per cui conosci le basi. Arara. Affrontami. Prova a colpirmi. Ora, ora. Spero di non averti fatto troppo male. Forse non avrei dovuto usare così tanta forza. Non scuso. E' passato un po' di tempo dall'ultima volta che ho allenato qualcuno. E mi sono dimenticata che dovrei, come dire, trattenere. Beh, almeno ci ho insegnato un paio di cose. Voglio che tu ti unisca a me per questo piccolo torneo. Perchè? Arara. I tornei sono divertenti. Non ti eccita l'idea di un nemico che va a tutta velocità per cercare di buttarti giù con un solo colpo? Arara. Beh. Imparerai ad apprezzarli. Molto presto. Ora, aiutami a mettere l'armatura. Proveremo qualcosa di semplice. Sì, sarò gentile con te. Arara. Tutto quello che devi fare è... Prepararmi. Darmi la lancia. E cercare di farmi scendere dal cavallo. Farò la stessa cosa con te. E cercherò di... Non buttarti giù. Subito. E ricorda. Faremo meglio a non fermarci durante l'allenamento. Così sarai pronto per la Terra Santa. Devi essere sempre pronto. Ricorda. Sì. Non essere troppo... Fiducioso. E se hai qualche problema... Non dimenticare di chiamarmi. E io ti aiuterò nel modo migliore. Mi prenderò cura di te. E adesso... Andiamo. Arara. Certo che fa caldo qui nella Terra Santa, mio scudiero. Vorrei tanto togliermi l'armatura di dosso. E lasciare che la mia pelle si rinfreschi un po'. Fa davvero tanto caldo. Arara. Arara. Non sono l'unica che sta avendo problemi col calore. O scudiero. Dico a te. Ma il tuo calore sembra provenire da qualcos'altro più interno. Sembra così che tu abbia trovato qualcosa che ti accaldi. Arara. Arara. Le mie insinuazioni, come tu le chiami, servono solo per rompere il ghiaccio. E penso che ne abbiamo entrambi bisogno. Dato che... Stiamo per procedere verso la prima battaglia. Come ti senti? Non devi affrontarli in prima linea, te l'ho detto. Stai dietro me. Sì, aiutami quando non ho bisogno. Hai le armi che ti ho dato? Arara. Migliore ogni giorno. Sei diventato davvero bravo anche a lanciarli. Sono sicuro che se qualche saraceno furtivo cercherà di colpirti da dietro, non avrei problemi allora a lanciarglielo. Sì, mi dimentico sempre come si chiama. Quest'arma... Con questa palla enorme e le spine. Vabbè, non avrei problema a tirarglielo in testa. Oh, non essere imbarazzato. Stai diventando un guerriero. E se tutto andrà bene, sopravvivrai a questa battaglia. E dopo... saprò come ricompensarti. Arara. Ora, per favore, focalizzati. Stiamo per affrontare la battaglia. E' stato intenso, vero? E penso che tu ti sia fatto un nome sopra. Congratulazioni. Ora sei pronto per diventare un vero guerriero. Un vero cavaliere. Sono sicura che... Lo sarai. Sono sicura che lo diventerai non appena tornerai dalla crociata. Ma prima che questo accada... Credo di averti promesso qualcosa, giusto? Un premio per il tuo coraggio. Arara. Certamente. Togliti l'elmo. Ecco a te. Ben servito. Non essere imbarazzato. E' stato solo un bacio sulla guancia. Se sapessi le cose che potrei fare normalmente. Arara. Oh beh, forse non lo saprei mai. Andiamo alla festa, su? E sono sicura che faranno un brindisi il nostro onore.